Atac rinasce grazie all'approvazione dei creditori del piano di salvataggio di Roma Capitale. La più grande azienda europea pubblica di trasporti resta ai cittadini dopo il via libera al concordato preventivo in continuità. Salvaguardati oltre 11.000 posti di lavoro. Una nuova isola ambientale per lo storico Rione Monti nel cuore di Roma. Il quartiere sarà finalmente libero da auto e smog grazie a un restyling completo. Nuove aree pedonali a velocità ridotta e l'ampliamento e la ripavimentazione di marciapiedi e strade. Pubblicata la gara per il primo lotto. Stop alle attività dei centurioni nel centro storico. Una nuova ordinanza del Campidoglio rinnova il divieto fino al 31 marzo 2019 nell'area del perimetro riconosciuto come sito UNESCO. L'obiettivo è tutelare il patrimonio artistico ed assicurare decoro e sicurezza. L'obiettivo è stata costituita.